L'AMAT d'Imperi ha ritirato l'istanza di fallimento avanzata nei confronti di Riviera Acqua, la società pubblica per la gestione del ciclo idrico e questa mattina non si è quindi presentata in tribunale dove avrebbe dovuto tenersi l'udienza relativa alla procedura fallimentare che dovrebbe quindi essere archiviata con un non luogo a procedere. Il ritiro dell'istanza è scattato dopo che Riviera Acqua ha accettato tutti i termini proposti da AMAT a cominciare dal pagamento delle fatture arretrate per circa 2 milioni e mezzo di euro impegnandosi anche a rispettare i termini di pagamento delle fatture da febbraio in avanti. Il ritrovato accordo fra AMAT e Riviera Acqua lascia intendere che si vada ormai verso l'ingresso dei privati in Riviera Acqua anche se questo a detta del commissario Gaia Checucci potrà avvenire soltanto attraverso una gara pubblica. L'improvvisa disponibilità di liquidità da parte di Riviera Acqua tale da consentire di accontentare AMAT viene spontaneo a pensare che provenga dalle bollette arretrate recapitate nelle ultime settimane a partire dal Golfo Dianese con cifre iperboliche che hanno spesso scatenato le ire dei contribuenti. E proprio sulle bollette dell'acqua ci sarà un incontro il 3 marzo alle 15 nella sala consigliare del comune di Diano Marina. L'iniziativa è stata organizzata dalla Confcommercio Dianese e prevede un incontro con i rappresentanti di Riviera Acqua per far luce sulla questione. Un incontro riservato agli associati di Confcommercio Golfo Dianese.